Per me niente, grazie. Siete fortunati che John non vi abbia tagliato le dita. Posso averne anche io un pezzo, per favore? In Albania sì e no sono invertiti. Ma così non rischiate di essere fraintesi? No? Sì. Ah, giusto, già. Quindi vorreste unirvi a noi, corretto? Assolutamente sì. Soltanto tu? Anche mio fratello. Sicuro? Pensavo che si facesse così in Albania. Sì. Beh, allora Mireisevini. Mireisevini. E io che ho detto? Bene, inizierete con il pizzo, è facile. Una volta a settimana farete visita alle persone dicendo che vi abbiamo mandato noi a prendere i soldi. D'accordo? D'accordo? No. No. No.